L'Istituto Tecnico Nautico di Trapa nel Marino Torre, che oggi ha assunto la denominazione di Istituto Tecnico per la Logistica e i Trasporti, è antico, ha 183 anni di vita e quindi, come è facile poter dire, l'evoluzione del mestiere dei marittimi da quegli anni ad oggi è stata notevolissima. Si parla oggi di navi che trasportano merci o passeggeri per tutto il mondo, che vengono guidate da sistemi informatici ed elettronici di ultimissima generazione e di coordinate che si desumono dai GPS e non più dagli strumenti di una volta. Tutto questo comporta ai nostri istituti e ai nostri studenti di studiare attraverso gli apparati che noi possediamo, che sono i simulatori di macchine e di navigazione. Questi nuovi sistemi che li portano ad imparatonisti di una professione, perché i nostri studenti diventeranno direttori di macchine e comandanti di nave, che consentiranno loro di potersi collocare nel mondo del lavoro dei marittimi.